ma è stata una partita molto combattuta abbiamo sofferto molto e però siamo stati capaci a sfruttare molto bene i contropiedi che ci capitavano e si era una piccola rivincita perché abbiamo comunque preso 7 gol e quindi insomma ci rodeva un po lo stomaco ma secondo me la partita si è un po incattivita quindi comunque per stoppare un po gli animi ogni tanto chiedevamo il time out ecco penso sia questa la risposta giusta perché la partita sarà comunque incattivita è stata una bella partita combattuta fino all'ultimo e siamo contenti insomma di questo risultato di essere passati grazie a di nardo grazie a voi